eccoci buongiorno buon pomeriggio buon sabato pomeriggio ora ben via mi squadra no grazie benvenuti bentornati questo pomeriggio come possiamo notare andiamo avanti in fallout 76 io preciso qual è la questione che non me lo fa prendere cos'è stato ok andiamo a parlare ok andiamo a parlare con il sindaco di Grafton ok allora vediamo 180 fucile da caccia fucile a pompa non ho capito il perchè non gli piaceva ma comunque andiamo a vedere il andiamo a parlare con il sindaco di Grafton uno due dove è qua bimbo mix uno era qua intanto vediamo come siamo messi con acqua cibi un po' di acqua e un po' di termine che è qua voilà a ralenti va bene Andiamo a parlare con questo sindaco, visto che abbiamo preso la comunicazione via radio e difatti la missione è ufficio turistico, parla con il sindaco di Crafton, andiamo a vedere cosa ha da dirci, amico nemico, amico, saccheggiatore ma amico. Ah, ho finito l'acqua. Apriamo, con calma, perfetto. Funzioni di quasi. Conosco un tizio che potrebbe ripararlo. Conosco un tizio. Signorina, eh, bisogna ripararli nel... Ah, intanto dobbiamo ancora trovare una nuca a quantum. Bisogna riparare... Ah, rifugio di Twin... Twin Pine. Ok. Bisogna trovare ancora la nuca a quantum. Voi, nemici? Non fa male, se forse. Per me... fa... ...fatti... ...fatti. Che talvo. Cioè, non fa veramente danno. Non fa veramente danno. E basta Qui non ce l'hanno con noi Sono andati fuori di testa C'è una scanna Sono andato di arresto Perfetto Abbiamo un A me non fa danno Fuggire a pompa 75 A livello 15 Mi pensa così qua A livello 5 Mitragliatrice Invece Cucile Passa Mitragliatrice Tegnano Tegnano Però Mitragliatrice Ma Ah Pugiamolo Non si sa mai Allora Craftcon dove? Craftcon dovrebbe essere di là No No Non ancora ne fanno E' abbia E' abbia Abbiamo Abbiamo Tutto Conto Oh che carino Ma questi si può sembrare Cosa sono? Fiori della foligine Tossico Non vedevo l'ora Di prenderli Possiamo tagliare Dove Andare I silenzi Che Atmosfera Qui però sono cadute le bombe Missione del soprintendente Studia la ricerca della dettoressa Oddio Paura Delirio Segui Soprattutto nel suo viaggio Quello che stiamo facendo In teoria Quindi abbiamo fatto qualcosa Stazione di Graffon Ok Qua non c'è nulla Interessante Ce la diamo adesso? Armi C'è la mia armatura Sì C'è la mia armatura Allora Di armi Abbiamo una pistola Via E boldine 60 però 10 Armatura Niente Grazie Passiamo già A Graffon Graffon In risolto Ragazze scomparse Scomparse Studentesse di Clatsville Ultimo avvistamento Corsi fluviali Nei pressi di Clatsville Infatti Insabiamento Dalla polizia Chi sono? Perché non diffondono I miei nomi? C'è qualcosa Che non vogliono dirci? Perché? Ultimo avvistamento In zona boschiva Verso il fiume Niente squadre di ricerca Complotto Note Non ce la faccio Mi serve il tuo aiuto Che assurdità Non credere alle sue Cavolate Parla solo di Ship squat E K Paranoia pura Picnic da panico Monifesto della festa Pimus Festa selvaggia Questa domenica Regola della festa Di casa P Rompere cose Scatenarsi Devastare E devastarsi Andare in coma Vomitare Spaccare Siete tutti benvenuti Abbigliamento formale Facoltativo Niente robot PS Sbirri non graditi Arrivano i sbirri uguali Ognuno per sé L'amifesto del riclutamento Degli scout Scout pinieri D'America Unite né a noi L'ordine del girino Ecco Sempre desiderato Essere un girino Visitate Camp Levis E iscrivete Oggi stesso Visita oggi Il centro di ricerca Rifugi A Palacchiano La casa del futuro Ti aspetta Quindi No Non era questo No Questo è il rifugio Di Qua Che cos'è Via Camp Ah E' qua Il camp Oggi Nessuna bomba atomica Meno male Questo è Trovo il prossimo Diario di Wesh Che è laggiù Questo è Apri l'armadietto Perché abbiamo La chiave Ottieni Della nuca Cola Quantum Ecco Dove devo andare E Ah E andremo lì E quindi Evento capobranco Parla con il riciclatore No Siamo qui Per adesso Facciamo qui Poi quando andremo Fare la dottoressa Ci prendiamo la nuca Quanto Che ci facciamo 62 miliardi di giri Giusto? Giusto Detto questo Parliamo col sindaco Prima di parlare col sindaco Rifornisciti Prima che si Esauriscano Le scorte Allora La montura Vestiario Cibi Come devo Sticcare Provviste Buff Mental Radaway Sono a tua disposizione Per qualunque Scambio Commerciale Andiamo a queste cose Di metalli Ok Che cosa hai? Note Progetto Che è noto 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 Accetta Quante ho? 102 Non affrontare La zona Contaminata Senza scorte Adeguate Deposito Tutti i materiali C Provvivarie Chiave Terminata Chiave Dell'ufficio Del preside E anche questa Frammento Di mappa Modulo Leggendario Togliamoci Questo La scheda Di sicurezza L'aeroporto No Questo Peso totale Tre Un'unast Siamo Appunto Il soccorritore Questi sono Ancora Da fare Allora C'è L'alplasma C'è La diffusione Combustibile Munizioni Voilà Ok Possiamo andare Sulla strada Non è tutta Vino No No Tuture La zona È stata Ripopolata Tutti Vorranno Creare Insediamenti Come Foundation danno sembri davvero e dico davvero diverso dal resto delle persone è la festa di Grafton di nuovo il mostro di Grafton e i suoi assistenti robot parteciparò alla sfilata e chi non piace una sfilata fulghe al mostro di Grafton ah è un palico rombone ecco la chiera degli assistenti eccoci guarda come moriamo guarda come moriamo eh te l'ho detto che e moriamo te l'ho detto non dovremmo entrare qua dove mi hai fatto l'entrare dove mi hai fatto l'entrare qua al comisario il mostro di Grafton è l'amata maschosa della nostra cittadina corri è孟 mi hai fatto l'entrare io incastri? no, nella casa non nella casa che si viene nella casa vabbè finiamo la sua sofferenza non voglio dare e vabbè e questo è anche il fallout ok ci sta non è abbastanza ecco io questo non lo capisco quelli che hanno messo il salto ultraterreno allora metto questo ultima morte ah no, ultima morte aspetta, cavolo giusto giusto, 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 giusto se sono morto fioriranno ultima morte dovrebbe esserci un sacchettino giusto 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 non lo vedo giusto o no non c'è non c'è sacchettino non c'è sacchettino vabbè mi sembrava che non mi guarissero va bene andiamo a parlare con con il sindaco vediamo cosa da dirci cosa c'è qua dentro cosa c'è qua dentro la richiedezza era un bene ah no eh lo saprevo oh oh un po' di munizioni non ci piace voglia di combattere e spaccare voglia di combattere e spaccare eh vale se tu la vi sopra scudella no denaro come sei entrato qui alberò qui qua mi da capire per questo questo fucile a pompa attenzioni amido amido cos'è questo rumore non è mica normale non c'è nessuno scusate ho sbagliato sbagliato casa scusatemi come hai fatto salire come hai fatto salire lassù brutto vestione verde a po' a po' brutto vestione verde di qua di qua che non è che sono forte forte super forte super forte mutante ma te lo stai dicendo io solo chi d'è ma che cos'è flo flo a dar gelido sbittante un momento di quest'anno così piccoli così devoli niente roba verde qui scusate manifesto odio l'acciaieria craft on steel gli incidenti sul lavoro continuo a per marco un 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 artigianale automatico allora odio l'acciaieria craft on steel gli incidenti sul lavoro continuano ad aumentare ma loro non importa nulla di noi pensano solo ai profitti e per questo che me ne vado ho provato a convincere mio fratello billy ad andarsene ma gli servono soldi la craft on steel non mi merita non mi merita non mi apprezza sono il miglior chimico esistente su questo lato del mississippi e non saranno mai in grado di rimpiazzarmi quei cattivoni avranno una bella lezione adesso alimentare non penso che lo mangiamo però forchette di plastica chiedendo perché prendo tutti sti danni ma di armatura ce l'ho no 6 30 a livello 25 problema è che cibi bevande io ti posso anche dare un cibo e bere ma ma ok stimpac che preferisco usare il cibo che lo stimpac è più naturale niente 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 prima di andare si andiamo su un pene buonasera qualcuno no 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 sono un po' di teschio ah un pene due ok non c'è nessuno il bagno tutto posto allora io tu se chiusa funzioni che fanno sempre piacere tappo munizioni prima di passare laggiù mi vedo qua sotto che cedito il tifo che ci doveva addosso centro guardate fucile da caccia luce e luce fote Tessa forte, scatoletta Tessa forte richiede 1 Va bene Ma qui, no, non ce l'avamo ancora passati Tiratore scelto Tiratore scelto, fammi vedere un attimo Ma scusa E' questo 85 No, no, no Non lasciare niente Adesso vediamo come va questo Secondo me, ho incannato io Sono preso un fucile leggermente fallato Allora, facciamo il giro da sopra Così almeno vediamo Dove ci porta l'altra strada Tanto, non so, ce lo spippoliamo tutto su Grafton E poi andiamo a parlare con il sindaco Allora, si passa sui tetti Granata criogenica La Crio Che è la tipa del make up Quella è Clio Da settore niente Qua è solo crollato il tetto Dai Qua prende tutto fuoco Lì prende tutto fuoco Mano di Death Clone Non ci interessa Anche se Mi pare che si faccia il guanto di Death Clone Che fa un male Della Madonna Ah, questo qua è quello che abbiamo ucciso Ok Quello che abbiamo ucciso perché eravamo lì Beh, sì Molto bene Di qua Se vuoi mettere un po' più di luce E qua invece No Verranno la ma Sì Perché non sono andato fino a su? Non avevo visto la strada Ok Quindi questo comprensorio di Diffici L'abbiamo visto E siamo a posto Q6 Q6 Bellissimo Comunque rimane Anche se è la più debole La mia preferita Rimane la mia preferita Quale è stato? Oh mamma mia Scusate Prezza Ma questi Ma io sai che non me ne ricordo proprio Questi qua Questo qua è del fuoco Combustibile Sacco Proprio di cerfano E fiammeggiante Adesivo Voglio di scarpe Ma chissà che cosa fa Dovrebbe essere Sì 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 Vabbè Sì Chico La roba lì Munizione Fucili da caccia Arrivavano di qua Aspetta Prima prendiamo il Eh mi piace Mi piace tantissimo So che non ho munizione Uovo di rospo radioattivo Che schifo Si porto per anelli Che schifo Mi piace un caso Dello star Questa devo Ripararla Wow Belena Posta Signore Intanto devo ancora parlare col sindaco Ma è sempre così Con fallout Tu dici Devo fare una cosa La radiatora Devo fare una cosa E poi ne fai mille Prima di fare quella Non c'è sempre due Va bene Dai Senza perderci Prima però di parlare Vediamo solo Qua Questo edificio Che c'è Appunto Zio Non ci arriva Non ci arrivo io Aia Non ci arriva lui Non ci arrivo io Aia 218 Posso usare un attimo Chi è? Sembra il caso Farmi Ammuntare Ammuntare Dai Non è liberale Beh Sei super mutanti Prospora di attivino Ciao Ammuntare Si Io gli saluto Sempre quell'arco Venite Ciao Ammuntare Ciao Ammuntare Siamo a fare la spesa Si Mi hanno detto sette volte Che vanno a fare la spesa Allora Armi Martello demolitore Fucile pompa Adesso noi abbiamo tirato le scelte Che mi citino Quelli Fucile da caccia Eh Fucile da caccia Io 5 61 Mi dovrei tenere almeno uno Però non ho ancora Trovato Quindi no Mh Boldi National Artigianale Canna corta allineata Perfetto Indurito Capiente Torace Che bello Però a livello Fuck miseria A livello Ehi Che bello Per ora a livello 25 Cioè 10 livelli In più Capo munizione No Fucile da caccia Se me lo dai Da livello 15 Lo tengo Allora No Vai giù Cell Nucleo di fusione Quanta è? 10 No Paraccio da cacciatore Dovevo lasciare la giacca Ma stredi che sono Cuoio e petrolio Cuoio e cristallo Non mi chiedete Tegli di Mocco Ah no Tanto è Munizioni Non mi ricordo Non l'ho guardato E sono uno scemo Quella che a me piace 38 38 38 38 Sare di livello Livello 16 Rivendica Non so Mi sento come un cartino Rivendica Rivendica Posso prendermiii Allora Sare di livello Vediamo Colpi Le armine a mischia pesano il 20% in meno E poi Grandire il 10% in più velocemente I fucili a pompa infliggono il 10% in più di danno Percezio Grazie alla tua preparazione di base I fucili automatici infliggono I fucili automatici non è presente qual è Le pistole hanno una portata aumentata I fucili non automatici infliggono I non automatici sono i fucili normali Il spirito del collezionista viene riprodotto un effetto sonore Direzionale Quando ti trovi sulle vicinanze di una statuetta No ma la statuetta Io sto qui Allora Cibo per car Ah Grado max C'è un giro E invece è probabile di È probabile di Contrare Un eredotto del 30% Carisma In solitore subisci il 10% in meno E tieni Rigenerazione Punti Abilità 5 Intelligenza Armaiolo Puoi creare modifiche avanzate alle armature Fabbricante da armi Le tue armi artigiano Guerriero improvvisato Le tue armi da mischia si rompono Il riciclatore Però Questo è il fabbricante da armi Poi c'è l'armaiolo Poi c'è l'armaiolo Automatiche Che sono Ah Il mitra È un fucile automatico No Le pistole Automatiche Queste sono Le pistole Automatiche Non so cosa cavolo prendere Non so cosa cavolo prendere Non è tutto con la caprice La tua arma L'arma ha una piccola tonalità Indigliata Che condizioni quando colpisce l'unico Ah Non è giusto Allora Vaccinato Togli questa E Metti L'unico Lato Tanto Nella 1 3 4 5 Ok E No Quindi alla fine Che cacchiglierla ho Questa è la mia preferita Emozioni Anche qua il tipo di semare Le emozioni Beh ma per salire Devo per forza Inseccherarmi Sì vero Mi dava fastidio prendere Le radiazioni Per niente Voilà Andiamo a vedere sopra Che ne abbiamo uccisi due E quindi Doviamo anche vedere Ecco Uno Questo Che era Era quasi Diluito Uncino Capitano Uncino Che cos'è Uncino Allora L'asse Fa 43 di danni Uncino No Tavolino Apri Il livello 0 No Con calma No Piano Bravo Punizioni Ok Ok No No La cosporta Non la voglio Non la voglio Ottene solo spazio E poi Tanto ti da un casino Di radiazione Quindi Questo qui Ce lo prendiamo C'è la caccia Acqua bollita Anche Non c'è niente Possiamo scendere Andiamo a parlare Con questo No Dentro Dobbiamo ancora Vedere Con il sindaco Intanto Ne abbiamo Inciso Anche qua No Questa L'avevamo Già vista Già preso Era una scuola No Chi è che Continua a sparare All'impanzata Metro E' sportivo Equipaggio Eh dai Mi piace di più Gianni Così Che Da Macchina di scattolo In fare il raccattatore Ce l'abbiamo già Sigarette Perché in classe Si fuma Due Due stecche Due Non si sa mai Cosa ci lasciamo Se ci mancassero Giustamente Siamo in una zona Post-apocalittica Siete morti Nel momento Che stavate facendo Cosa Palla Palla Da basket Apri C'è anche Barrettino Però il barrettino Mi piace più Stattore Mi spiace Urna Ah per votare Benvenuto elettore Questo sistema Provedimento in corso di votazione Legge del benessere Palacchiano Stanzionamento di un fondo Di 2,6 miliardi di dollari Per avviare Sostenere il processo Di automatizzazione Totale Dello Stato Palacchiano E dei governi locali Tutti i dipendenti umani Devono essere progressivamente Eliminati dal governo Entro il 2018 Sì No Passa Come legge Passa subito Ma non sappiamo Di che cosa Cioè Che cosa Si votava A posto Apriamo anche questa Et voilà Ok Andiamo a parlare Col sindaco Finalmente Sindaco Sindaco Bestia di Crawford Non leggiamo Tanto l'abbiamo già vista Munizioni Razzo Questo qua Richiede il vello 1 Di qua cosa c'è Niente Sotto la scrivania Niente Buongiorno 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 Aiutaci a prepararci Per l'imminente Ondata di turisti E avrai un incredibile Sconto del 5% Su tutte le attrazioni Allora D'accordo Come posso aiutare Come hai fatto A diventare Sindaco In fin dei conti Non mi sorprende Trovare un robot Di nuovo Ah Lo sai che sono tutti morti In stagione turistica Veramente Allora Come hai fatto A diventare Prima ero l'assistente Del sindaco Ma quando ha smesso Di presentarsi in ufficio Ho preso il suo posto Sono qualificato E la città Mi ha eletto All'unanimità Dal primo All'ultimo Cittadino Molti sono cittadini Quanti mi sono Sei un tipo Perspicace Spero non punti Alla carica Di sindaco No Lo sai che sono tutti morti Tutti quanti Ma in questo modo È molto più semplice Fare il sindaco Su quello Vedrai la mia percentuale Di consensi L'area è stata invasa Da una valanga Di nuovi visitatori Come te E questo significa Entrate Non temere Non mi aspetto Che tu lo faccia gratis Sono sicuro Di poter trovare Una ricompensa adatta Da qualche parte D'accordo Le principali attrazioni Sono quattro Parco acquatico Di Wavy Willard Poligono di Clarksburg Frickets Fort E Black Bear Lodge Prepara le tutte Per la stagione Io Ti aspetto qui Anche perché Non ho le gambe E non posso muovermi Simpatico Cos'è Sherry Cos'è Allora Pistola Automatica Artigionale Munizioni Questo Di livello zero Ma Il sindaco Di Croft Allora Si indicano Immediatamente Nuove elezioni L'attuale sindaco Gloria Manara È assente Da oltre Quattro anni Voti del consiglio Favorevoli Uno Contrari Zero Risultato Elettorale Unanime Un voto A zero Per il nuovo sindaco Ex assistente Computerizzato Del sindaco Ah Trasferimento Dei fondi cittadini Al fondo Per la campagna Del nuovo sindaco Voti del consiglio Favorire uno Favorevi uno Contrari il zero Eh vai Se sei solo tu Ribattezzare Giovedì Sindaco Di Sindaco Di Ma fuori di testa Questo Preparativi Acqua La richiesta È stata accettata Il parco È troppo importante Per l'economia Della regione Ikes Ford Necessita di un nuovo sistema Di accesso A crediti Ho accettato Di appoggiare La richiesta Il poligono di A È un disastro Chiesto alla polizia Di intervenire Non potranno riaprire Prima di aver pulito tutto Quindi sappiamo Che cosa dobbiamo fare Il mio stupido computer Ha di nuovo i numeri Vuole una tazza di caffè Di Slocum's Joe Prima di fornire I rapporti trimestrali Ma se non ha neanche la bocca Mandate qui qualcuno Dell'IT A dargli un'occhiata Sindaco McLaren Ah Nota privata del sindaco Moggia Moggia non è Sono di ritorno Da una riunione Del consiglio cittadino Ho un branco di mammolette Niente cervello Niente palle Ci pensero io A trascinarli Nel ventiduesimo secolo Fosse l'ultima cosa Che faccio Dovranno solo ringraziarmi Quei cacca sotto Nulla facenti Non hanno molte Alternative Turismo Ecco cosa serve A questo posto Sciocchi che sgranano Gli occhi a destra E a sinistra E che vuotano Il portafoglio A ogni occasione La Grafton Steel È il passato I parchi acquatici I poligoni di tiro Quello è il futuro Ma devo fare attenzione La Grafton Steel È un finanziatore Della campagna Non dovranno pensare Che non guardo loro Le spalle Almeno finché Non li accoltellerò Proprio lì Ah però Registro del soprintendente Registro del soprintendente E ci sono riuscite Avrei fatto meglio A stare più attenta Ok Andare di là Qua Ed è qua Perché tieni acqua bollita? Ah Sì sì Sempre parlando che shine A uno Due Tre Questo qui È in Daga Presto Quattro Sì Ok E quindi Finisce così Il messaggio Il suo viaggio Risolto Va a riscoprire Cusapra Va al Camp Levis Visita al centro Richiesta Rifiuti Apri l'armadetto Minatore Minatore Studia a ricerca Che è un ufficio turistico Apri l'amore dell'acqua Il campo acquatico Di Wery William Ecco lì Abbiamo bottiglia di birra Scusa ma sono scemo Scusa ma di che non muore Ok Allora aspettate Mi fumo una sigretta Visto che non c'è nessuno Per ora Eh I nemici Non dovrebbero cicciare fuori Quindi mi fumo una sigretta E poi andiamo avanti Cioè Quando abbiamo una sigla Non sono Un granulare di scegliere di bar Allora 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 Scusa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci. Ok. Quindi, intanto notte nel mentre, ok. Allora, dobbiamo andare a raccogli 10 bottiglie di birra. Va bene. Case chiuse. Sono chiuse, non sono. Ma dai, butta laggiù. Ok. Fucile da cecchino, questo mi piace. Acqua purificata. Ah, perché c'era una barricchetta militare. Cos'è la tannica gialla? Cos'è la tannica gialla? Cos'è la tannica gialla? Cos'è? Cos'è la tannica gialla? 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 No. No, abbiamo fatto così, no. No, una rana. va bene andiamo a prendere l'em addio testa di cazzo 15 va bene è stato un altro fucile da cecchino il peso fammi vedere i fucile un tre dieci sessantotto io invece il mio è sessantuno fammi vedere no questo ve lo fare la caccia alla mine lasciamole ok quello che volevo capire qual è la strada qual è la strada è qua bottiglie e non sono sulla strada e non sono sulla strada la caccia la caccia è la strada però acqua purificata ecco 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 Oh! sono malato sono malato cosa mi dà le piaghe madonna allora effetti piaghe ferite sanguinanti resistenza il diluito è resistenza alla malattia meno 50% 35% però meno 50% quindi devo provvistere rimedio pure malattia non è più la malattia quindi questo non lo vogliamo mi è curato la malattia mi sono tolto questo e ho mangiato ma cos'è tu che stai sparando qui però potrei aspettare perché se ci sono altri scorpioni fattoria smitta no voglio prendere qui sono altri scorpioni appunto il nostro americano sì questa è la fattoria smitta ma dove sto andando sbagliate dove sto andando giusto qua sotto quindi sta cosa è radioattiva non dà solo luce è radioattiva la mica nemica ok la massa che giocatore con lo scontizio che potrebbe ripararlo come va proteggere e servire muoversi vai via tutto bene siamo arrivati a dove c'è il poligono di tiro molto bene c'è la caccia con il poligono di glasburg hardware presenza entra neanche identificati Insane. No, 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 no. avvio contro il staglio rilevanti bersagli nemici multipli richiedo rinforzi questa area è sicura procedo con il progetto di ricerca falso all'arco disattivazione per favore all'arci ora questa è una zona di combattimento però non Rilevati per sangli nemici multipli, richiedo rinforzi. Un altro che esploso. Ma mi piace sta cosa. Allora, ottamio, nove, centro, allora, uno alla volta, con calma, ragazzi, con calma. Ehm, cosa chiamiamo qua, le gomme da masticare che possiamo vendere, è imposibile. Il clocleur non è... Eh, no. Vabbè, prima non l'ha sostenuto. Ma, da di più. Così non è, da di più. Ma cos'è il gecicco? Ecco qua. Vediamo un po' di più. Ecco. Vabbè, vabbè. Non capisco cos'è il gecicco. Siamo sinceri. Allora, via. Via. Uncino, tacca, uncino. Di penale. La caccia. Veneto e silenzio. E via. E questo mi piace. Ho visto i vari nostri noti materiali, le difficoltà. Dall'armatura. Ne ripariamo un po' l'armatura. Siamo tutte dieci. Allora, intanto ripariamo questa. Questa. e questa. Poi passiamo a Crea. Perché non vado a livello superiore? Livello 10. Zaino. Io ce l'ho a livello 10. Passa modifica. Il mio zaino è a livello 10. Il mio standard. No, non si è che non mi presto. Ah no, aspetta. Ma dovrebbero essere già al massimo, se non sbaglio. Non si è che non si è che non si è che non si è che non si è. Non ho modifiche leggendari. E poi ho volito materiale. Leggero. Sentite la vernice. Facciato. 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 Molto capiente. Armaiolo. Non ce l'ho. Ce l'avevo. Eeeh. Questo è tutto esatto. Standard 20. Saldato 25. Gamba destra. Il pallo garnicato. Nessuna garganta. Salvo. C'è un po' di giro. Sei in vent'inta pazzo. Cos'è? Immaginavo che era un ufficiale. Allora signori. Questo qua. Si dice parte del codice del silos, perché ci sono tre silos, vi ricordate cosa aveva detto il sovrintendente, giusto? E quei silos ci sono sempre. Ci sono, ci sono, però servono questi codici, cinque, per l'esattezza, cinque di questi codici, per questi esce, come c'è la scrittura? No, ma il caniziere che aspettavo la nuova quantum Non mi sembra di stare sempre a silent Munizioni Munizioni che fanno sempre piacere Sacca da viaggio, niente Non mi sembra di stare 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 E se sopra Mamma mia, non è che toccata Ma Non mi sembra di stare Non dite no Da ci dice il terminale Registri pubblici di Ipless Non è affatto possibile Per garantire l'accuratezza dei dati Servizio postale non certifica le informazioni Qui contenuti Servizio postale non è incontro Cerca per cognome Error e danno di istruzione Aspetta Cerca per non Ok ized Aspetta nemmeno che esploda Ah quando li uccidi no? No đi Guarda la decisione! Apri! Salve! Un po' di ritorno! Sveglia, 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 bel mico, ok, comunque questa l'abbiamo vista, come sei? Sei sopra? No, acqua no, fatta del frido, no, no, cos'è? Hai del diluito, abbiamo della carne, uova farcita, se ci penso di cacchi mangi qui, niente, ok, in qua, la rosa di sangue, livello 1, sporca, permesso, e niente, sherry e sherry, non ci voglio vedere la quantum, ok, quel cambio testa, di qua, permesso, munizioni, munizioni, chiusa, livello 2. Munizioni, munizioni, ne vogliamo tante, niente, ok, allora, recicliamo di nuovo oggetti, via, questa è rimasta qua, faccio vita, vabbè, scemo, ok, modifichiamo armi, ora, questa la possiamo ritorare, c'è stello standard, perfetto, calma standard, calcio, faccio, perché non l'abbiamo mai vista, mancano le viti, mancano le viti, sempre le viti, l'unica cosa che possiamo fare è questo, allitorare, cosa manca, chiudato, adesivo e viti, allora, quello da cecchino, da caccia, c'è stello centrato, lunga, autentica, e ce lo sta, calcio autentico allineato, minorino medio, minorino medio, minza, non mi mette, non mi mette, no, minorino medio, minorino luminoso, standard, col mirino, vado a 93, mirino lungo, ok, caricatore, canna lunga, autentica, ok, e quindi, e quindi, facciamo così, no, scusa, ok, ok, guarda, è andato anche lui, basta, forcone bruciante, il tempo, non è bruciato il tempo, perché, non è bruciato il tempo, adesso, sopra, grano turco, si continua sopra, punizioni, che sono la manna, dal cielo, e quindi, si scende, si scende, vediamo, rato, qui, normale, bene, sopra, però, si sono organizzati bene, comunque, qua, voilà, ok, ice cream, o non ice cream, dai, hai, hai, ice cream, questo lo vendiamo, finiamo, ah, questo è il poligono, si arriva, 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 abbiamo subito, il poligono, no, ok, l'altro, l'altro, ma no, basta, qui, questo qua, pensavo fosse un altro, ha detto, che cavolo, sono sparsi per tutta la palacchia, eh, così questi signori mi sembrava un po strano tra l'altro fallout strano non c'è mai niente però diciamo che anche un po troppo per lui questo un'armatura tonica pistola 44 cartello o colla ma le viti le viti ma le viti dove sono le viti dove troviamo le viti pensavo di essermi rotto la tiglia eccolo un cliente i bersagli di carta si consumano in fretta colpa delle condizioni atmosferiche non certo dei clienti che sparano loro contro saresti così gentile da procurarmi dei bersagli nuovi ti sembrerà assurdo ma la mia programmazione me lo impone va bene perché sparare alle lattine sui sassi quando puoi avere un bersaglio vero posso quindi questi vaga no ripara e terminare la situazione di black lodge ripara i distributori di gettoni scopri tutta la chiave visita al centro di richieste rifiuti paranea scopri indagra sai chi se mi mette non c'è ancora qua non ti carica di non so il diario apri la procurati nuovi bersagli nuovi bersagli di carta dove dove le non è le ah perché ho detto quello giornaliere qua ancora ti nuovi bersagli di carta procuriamoci nuovi bersagli di carta guarda che sole c'è io metto gli occhiali del sole qua ma il sole è anormale ma il tuo paese è scocato non è sufficiente un livello mamma mia e c'è un sole pazzesco c'è la lente, sento le radiazioni da qua beh vabbè, proviamo il cecchino no 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 e 149 quindi per la fine ah io ho sparato questi lupi perché no zio ormai ma mi spiace e beviamo non scusate ok andiamo a prendere questo team come ho fatto finire così sarà rapido indolore no 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 non è andato no 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 poverino gli ho fatto senti alla testa allora bullo delle aquile sanguinarie munizioni munizioni e fucile da freccia ma qui non avevo camp levis prima andiamo a prendere solo no 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 e poi andiamo al camp levis l'ordine del girino tu vai al camp levis tra l'origine dei rumori non sento rumore false accusa però eh Billy Joe quante missioni mi stai dando? mi servono otto monitor per vedere aia questa? no quella lì pensa a te per andare a prendere un cacchio di quante strade devo fare Krafton Studios no 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 ah la Krafton Steel e tutti morivano no no non interessa adesso giusto? rivendica l'officina cortile Krafton Steel ma noi non ci interessa rivendica che indica tu non rompi io non rompo ok ma quanto devo ancora andare avanti? ah quanto devo ancora andare avanti? per prendere sti sti coccodrilli eh quanto? siamo arrivati? sti coccodrilli 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 no spilat su quelli non non deserve ufficine ah andare adesso Grazie a tutti. 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 Allora. Questa. se no non ce lo togliamo. viaggio a tutti. Allora. modificarmi. andiamo. Andiamo. a tutti. viaggio a tutti. viaggio a tutti. niente. niente. 91. 91. 91. 91. canna. 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 Cazza da caffè che è molto importante. Scatola di Forcini e questa è importante. Birra. Cacciarita triangolo. triangolo? No. Non l'avevo considerato. Davide la diga. Sono il proprietario della missione. io sono il proprietario uno sparo non sapevo, non sapevo calma, calma, calma che mi bella la breakdance non hanno capito guarda dove è acqua purificata che colori invitanti per fare un bagno allora il giocatore speriamo che ci siano delle viti ventilatore il ventilatore mi dà la vita vero? andiamo a vedere andiamo a vedere Vite, camion giocattolo, macchina giocattolo, legno, vite, il ventilatore, vite, quindi, ok, va bene, basta modifica, questo, voglio temperato, ok, camion giocattolo, perfetto, ventilatori, va bene, sarà fatto, ho detto questo, fammi vedere qua, non c'è nulla, di là, non c'è nulla, prendiamo sti cacchio di cosi, no, no, dobbiamo scendere, dove vai, Gianni? Adesso mi vedo, aspetta, che non c'è nessuno, mi fumo una sigaretta qua, cioè qua, sto fermo qua e mi fumo fuori, quando avrò nel mio studio, diventerò un grande streamer, fumerò nel mio studio. Grazie. 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 Rieccoci. Il tappo non si chiudeva. Allora. ok dalla vita ok quindi il super martello ultimo ordine della Liga ci aspettiamo che la sua squadra torni a Camp Ventura entro la fine del mese mentre prepari e ricorda i nuovi ordini dell'azienda Max Stone dobbiamo impossessarci di qualsiasi tecnologia di valore potenzialmente pericolosa un paio di ordini dell'ultimo momento 1. uso dei tuoi contatti con i soccorritori e anche con gli stati liberi per vedere se hanno qualcosa di depositi tecnologici nascosti so che nella scissione selvaggia c'erano alcune installazioni di ricerche governative 2. se scopriamo dove sono possiamo organizzare una spedizione di recupero 2. scopri se qualcuno amico o nemico è in possesso di tecnologia potenzialmente pericolosa qualunque cosa comprende tecnologia nucleare armi laser o al plasma qualsiasi cosa catalogare ma non agire il cavaliere Wilson e io valuteremo caso per caso lasciare la diga deve essere difficile per te ma la nostra missione va oltre la protezione dei civili e non dimenticartelo Aladino a giardino civiltà se oggi questa parola ha un significato in appalachia è grazie al sangue versato dalla confraternita e dai soccorritori nonostante tutto abbiamo continuato a lavorare la terra a imparare nuovi mestieri insieme abbiamo costruito un mondo nuovo e i super mutanti lo minacciano costantemente sono un soldato un palladino e vi dico una cosa questo è il nostro momento non siamo mai stati così forti come adesso e i super mutanti mai così deboli se nel vivo della battaglia siete tentati di scappare per poter sopravvivere un altro giorno sappiate questo non ci saranno altri giorni o si vince ora soccorritori e confraternita insieme o si muore quindi guardate bene i vostri compagni giuratevi proteggerli e loro proteggeranno voi non c'è dubbio questa sarà la nostra battaglia più dura ma noi vinceremo perché combattiamo per qualcosa per i nostri compagni per i nostri figli per la civiltà e adesso facciamo vedere a quei mutanti di che pasta siamo fatti scatola versani mappa della foresta mappa del tesoro della cessione selvaggia ah dove c'è ok il revolver con la baionetta ma che arma ah revolver con baionetta 43 toglierò la baionetta però oh calcio completo così almeno abbiamo ok adesso non la usiamo perché se non si rompe devo tornare giusto origine dei rumori il mondo c'è qua c'era qualcosa o nessuno con la porta non lo sapremo mai allora domanda se vado dritto di qua vado a nelle guardie ma io prima voglio fare quello qui c'è il mio camp torniamo indietro torniamo indietro non c'è un taglia per farmi tutta la strada vediamo non c'è Guardate, guardate. La vediamo. Vediamo. Già il ruscello però. C'è un fiore. Alla boi. Ok. E ora? Come faccio salire? No. 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 Sessanta milioni di radiezioni. Non voglio solo glitcharlo che poi rilongo qua. Non c'è neanche un sentiero che va su, ma porca. Un giorno. Salve. Narratore errante. Hai un paio di minuti. Ho visto cose molto strane qui in Appalacchia. Anche io ne ho viste un paio. È una storia da raccontare. Beh, di sicuro non hai mai sentito nulla di simile a ciò che sto per raccontarti. Una notte, un amico mi stava dando fastidio. Ho visto una stella cadente e ho desiderato che scomparisse. E così è stato. E poi... Beh... Ciò che vidi quella notte cambiò la mia vita per sempre. E il tuo amico? Hai mai più rivisto? Sì, dopo qualche tempo, dopo che la cosa si era divertita con lui, non è stato mai più lo stesso. Quella cosa non camminava, ma stava sospesa e aveva occhi viola, luminosi. Non l'ho vista bene perché poi l'ha preso ed è svanita, ma so che l'ho vista. Pensavo fosse spacciato e invece no. Pochi sopravvivono all'incontro con il mostro di Flatwoods. O almeno penso si trattasse di quello. Un essere interdimensionale dallo spazio. La sua presenza può piegare perfino la volontà delle menti più forti. Comunque sia... Alla fine lo trovammo nudo e infreddolito. Non ricordava niente. Blaterava e farneticava di un forte lampo di luce. Dopo quello che ho visto, ti credo. Peccato che molti non la pensino come me. Stanotte potrei non chiudere occhio. Una gran bella stella da raccontare intorno al fondo. Ascolta, perché non smetti con i... Dovremmo avvertire quante più persone possibili sui pericoli della notte appalacchiana. L'hai tirata? Molta... Molta e sfida? Molta e sfida? Allora... Ok. E quindi questo... No, no, no. No, no, no. No, no. ecco adesso perché ho fatto questa scelta sbagliato sbagliato ragazzi sbagliato possiamo togliere a me le radiazioni non mi piacciono allora andiamo dai girini beh la è la prigione dove dovevamo andare dopo è stata la spinta della corsa che mi faccio schiacciare i gregi vabbè intanto qua c'è oh che bello una cosa dei ranger è Forci, grazie. Questo è americano. Questo è morto qui. E allora l'altro. I militeri sono morti qua. Stiamo sul silenzio. Mette un'angoscia. Montiamo un attimo insieme. Anche la fronte dell'amico. A me non dà le molne le viti. Allora forse è una macchina fotografica, sì. Muniziamo, muniziamo. Quello è zero, va bene. No. Allora, vediamo se è di qua. Il silenzio è veramente gialla. Già che c'è la crisi. La crisi. Cadavole di tesoro. Tredone. C'è la cittina. Nota. Punto di Bosley. La trovi dall'altra parte del lago, sul tetto della Crefton Stile. Alle 14 di domani. Elimina Henry che il tuo debito sarà saldato. Quindi dobbiamo andare là. Aria di impagine. Monumento al colonnello Kelly. Penitenziario orientale. Fattoria Greene. Miniera Carleton. Sottostazione elettrica Poseidon BX03. Letto del lago Tossico Prosciugato. Campo degli scout pionieri. L'innovazione. Il quartiere Crefton Stile. Trovi i luoghi. No. Ma la fa 10. Qua si ricordo. No. Il mittamine. Sottostazione. monumento, miniera, fattoria, penitenziario, letto del lago tossico prosciugato, ripare distributore, va bene, donna con tutti sti rumori, ok, pensiamo a un far cry che scende, veramente, quindi sul tetto della fabbrica, che non dimenticherò sicuramente di quello che ho letto, ma sul tetto della fabbrica c'è, ok, fantastico, non facevano le casette, campo scout pionieri, il campo degli scout, in tutte queste casette, rosse, caricatore perforante, activity Santa Rua, pelle di volta, pelle di cervo, vinti scuse, ma dai, agliatore, in questo camping facevano anche qualcosa, ok, questa è la casa centrale, immagino, e queste le casette, giusto? ah, la gamba dei pedroni, addirittura atomica, ah, la gamba dei pedroni, addirittura atomica, grazie guida dei pionieri, prefazione manuale dello scout pioniere americano edizione 2075, prefazione sopravvivenza, lavoro di squadra, ricerca, scoperta e innovazione, sono questi cinque principi sui quali si basa la vita dello scout pioniere e che riflettono lo spirito curioso della prima fondazione, esplorazione ed espansione degli Stati Uniti, più di chiunque altro guardiamo all'esempio di due grandi uomini, Thomas Jefferson e Mary Weather Davis, insieme hanno creato una squadra e progettato l'esplorazione di un enorme continente sconosciuto dove gli spostamenti più veloci avvenivano a cavallo, hanno affrontato questa sfida monumentale con coraggio metodica, pianificazione, spirito di innovazione, un gruppo di veterani e nativi. Quello che a loro ha richiesto due anni oggi si compie in un'ora, ma se siamo riusciti a farlo è solo grazie allo spirito di innovazione rappresentato da questi esploratori. Passo dopo passo abbiamo creato questo paese superando gli ostacoli in modo sempre nuovi. Voi rappresentate la prossima generazione di uomini e donne che sapranno guardare sempre avanti verso un futuro di possibilità infinite. Ci vediamo lungo la pista Edmund King, guardia degli scout Pigneri d'America. Ho letto. Ok, è stato molto motivazionale, mi volevo iscrivere. Questa è la grande cucina, di acqua purificata come l'oro. Comunque cola, se fosse stata quantum sarebbe stata più bella, cibo per cane in scatola si ci va bene. Le piante in casa. Ricette arrosto di Yaukai. Abbiamo le ricette prese a rosso di Yaukai. Abbiamo le ricette notte mappa 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 progetto. Cosa chiamato? Ponte. Ok. Perfetto. E quindi cosa devo fare? Trovo l'origine dei rumori. Guarda, andiamo a vedere. Questo è di cos'è. Non mi ha punto. Faccio un po' di duccio. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Inizio di prova a continuare con l'arco. No, aspetta. Bisogna il progetto filtro per l'acqua. Va bene. Scudella, poi cina. Non vuole iniziale di niente. Prima di… Allora. Allora. no 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 belare ma qua sono le doccia ex doccia ok morte dall'alto po attenzione cittadini attacco nucleare imminente abbandonare la zona il prima possibile grazie per la collaborazione ce la guardiamo? facciamo guardare non è vero non è vero non è vero allora allora no forse no cittadini cittadini poi di notte e vedete che la luna si sta muovendo un minuto e 15 secondi lo vedete in basso morte dall'alto ciò 52 vuoi bevo? e dai? non ce lo vediamo vizio che è vicino dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno guardate che arriva eccolo lì questo mi fa sempre venire la pelle d'oca questo mi fa sempre sempre venire la pelle d'oca un fungo atomico e poi lì c'è tutta la zona radioattiva va bene torniamo ai nostri scout un po' Doviamo trovare l'origine del rumore. Abbiamo visto quella lì, abbiamo visto questa qui, questa qui non l'abbiamo ancora vista. Questa. Salve. Salve, meglio. Ecco qua. Acqua. Ecco qua. Il problema è che non sento nessun rumore. Allora, manuale dello scout pioniero americano. Ok. Dove è possibile, l'organizzazione di una raccolta fondi dovrebbe coinvolgere la comunità. Vendita di dolci, gare di corsa, progetti di restauro e pulizia. Fiere dell'innovazione e competizioni interne possono facilitare l'interazione con la comunità, forgiando un legame più saldo e rafforzando l'impegno comune. L'approvazione e la supervisione degli adulti è necessaria per tutte le attività di raccolta fondi, non all'invasività. Vogliamo attrarre la comunità, non riempirla di cianfrusaglie. Vogliamo avvicinarla all'ambiente naturale. Addestramento. Usate le abilità che avete appreso per addestrare i membri della comunità. La maggior parte di voi conosce le tecniche di rianimazione, un modo efficace di raccogliere fondi e organizzare lezioni di rianimazione e sopravvivenza. Condotta. Gli scout non sono autorizzati a vendere farmaci, prodotti commerciali in eccesso o servizi di protezione, né a partecipare ad alcun tipo di attività criminale. Ma dai. Pensavo. Stecco di sigarette. No. Pensavo. . Buongiorata. Guardatore girino. Usa, oh poi, ok. Gonnellino Cirino Scout! Pantaloncini, progetto bandiere degli Stati Uniti, progetto posta piante, Sacco, 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 ok. Reglazione a possum? Cappello a possum. Progetto pesca di scorte. Leve, nodo, pisauno, refrigerato, piombato, gelante, brazzato, altra capacità. Ok. Perfetto. E cosa devo fare per aderire questa iniziativa stupefacente? Voglio diventare un gerino, sempre desiderato essere un gerino. Il problema è che io non sento rumori. Capo scout. Cosa abbiamo qui? Hai l'aspetto di una recluta promettente? Proprio il tipo di persona che sto cercando. A causa del vertiginoso calo di iscrizioni ho ricevuto l'autorizzazione da... da me stesso a darti il benvenuto negli scout pianieri. Sei nei ranghi dell'insieme di uomini e donne più patriottico, più preparato e più giovane, ma ultimamente non così giovane, da America. Ti assegno il grado di girino. Questa è la tua uniforme da scout pioniere ufficiale. Tienila in ordine e indossa la grandezza. Ora vai, mio piccolo girino, e guadagno... ...e il tuo intelligente e determinante... ...e il tuo rossone e il tuo rossone di cane. Ma quindi veramente sono... ...in forno di ginoma è un oggetto creabile e sbocca... ...barattolo rana. Habitat rana. Ma sono veramente uno scout. ...e quindi cosa devo fare? Domanda? Domanda. Allora, giornaliere. Pioniere pompi. Ok. Allora, questo non me ne può fregare di meno. Ok. Chi è il capo scout pompi? Ecco. Ecco. Allora. c'è un... ...penso che sia... ...pericolo. Pericolo di cosa? Di chi? Dove trovo i capo scout pompi? Acqua bollita. Ecco. 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 Chad. Cupito se devo trovare... ...progetto Fontana di Pietra. Aspetta, ma Allora, no Giornaliere, no Bersagno di impondanza Adesso le dobbiamo dare Secondarie Varie Parla col capo Non vedo l'ora del prossimo raduno E dove le trovo, sti qua? E dove le trovo, il capo Con quel telefono Il punto di Bosley La Virginia occidentale Ospita vari tipi di passero Abbiamo il passero campeste Il passero del destro Il passero della volpe La passerella e l'aria Caetà E d'altri altri Contenuti Un giorno passato dei posti Dovrebbe terminare con un'accurata ispezione Della propria persona Alla ricerca di eventuali secchi Unisciiti agli scout pionieri Da oggi accettiamo persone Di tutta l'età Anche perché non ci sono più persone Ma non ho capito Ho capito? Ma non ho capito dove sono Dove sono questi qua Per parlare Per parlare Progetto Uniforme da dipendente del manicomio Che cos'è l'uniforme Da dipendente del manicomio? Quest'aria? Oh mamma mia Sì io sette No no mi vestito da gelino Ok Allora Abbiamo sette Abbiamo anche fame Abbiamo anche Tutto Allora Allora Ma la domanda che nasce spontanea Dove trovo Tutte queste persone Non ho un indicatore Parla con lo scout X O lo scout Y X Allora 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 Sì, no. No, no. no, pensavo, mi sembrava non so dove sono questi qua, i capi scout perchè in realtà non ho mai trovato un robot qua dentro, cioè non ho indicazioni sulla mappa e ho visto, ne ho guardate praticamente in tutta statuetta da fuoco c'è solo un modo per dare il 110% allora quella l'ho vista e l'unica cosa che mi manca è questa poi non ho trovato nessun altro cioè lui mi dice vai a parlare con ma secondo me non sono qua lui si impressiona questa l'ho vista non so neanche se vuoi la vado a vedere non so neanche se vuoi la vado a vedere non trovo il vabbè colettiamo perchè questo non c'è più ah perchè gli ho detto di non seguirla ok ora è uscito questo spavalderia disinfesta togli shot adesso come adesso vado a portargli questo e a toglierli e a toglierli poi vediamo adesso ce lo metto il culo il culo il culo il culo è quindi sono diventato entratone scout pionieri ovviamente non ancora perchè presumo io ne ho xero ok presumo che per fare cioè penso tu debba fare delle azioni Questo l'ho visto Andiamo a portare la La Gli scrivi I cosi di carta I versali di carta Comunque è pieno zetto di cose da fare Non sto fallando All'inizio non c'era che niente, non ricordo Però adesso Secondo me Ma cosa c'è? Cosa hai visto? Belli loca, c'è qualcosa qui Di nuovo E' sempre quelle bulle delle acque sanguinari Va bene, aprire le sanguinarie Allora Andiamo a portare lì questi dorsalmi Possiamo chiuderla qui E poi andiamo là Allora Allora Qu'aplaccio spavento mmm a quella l'ora non vettete in faccia miller, 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 miller work, miller work allora, non ve ne cambiare eh perché mi hai fatto andare, intanto ne prendiamo 10 bottiglie 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10 gran bel lavoro al poligono di tiro ho la sensazione che oggigiorno il tiro al bersaglio sia molto in voga non 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 No, 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 no. Nessuno Mi livello E allora Intanto voglio solo capire che cosa ho preso Resistenza della mattina Ah è Radaway Verni del sangue Subisce 25 in più di danni Pienamente nutrito Pienamente idratato Pienamente Pienamente Ok poi Ok Vabbè L'ho passata dietro In realtà facciamoci questo Ok E l'ho sbagliato Perché ce ne sono due Due Possono essere le due Tre Allora No Aspetta Eh Sold no Tel no Dis no Work no Sam Inventario Munizioni Ok Avviso Quante volte devo dire Di ripetere le armi Per tenere d'occhio Firde Alla sono scoperta Guardi la cassaforte Sblocca quello che ci interessava Eh Voilà Allora Cestello Cuccia Razzo Dove è questa Qua Daggio Calestra Qua poi ce lo vediamo Prima Doleggiavamo armi e munizioni Ma adesso Le porta il cliente Ok Va bene Non ho capito Dove è il tipo Ma lo troveremo Girando Molto bene Voilà Allora ragazzi Siamo andati avanti abbastanza Dai abbiamo parlato col sindaco Abbiamo fatto l'evento del mostro di Grass Grass Fort Siamo diventati Gerini Quindi dentro i pionieri Siamo entrati Abbiamo fatto la prima giornaliera Del Dei cartoni Delle sagome di carta Per Il poligono di tiro Abbiamo fatto la prima Delle Quattro missioni Date dal sindaco Che l'abbiamo conosciuto Io direi che Abbiamo fatto Un po' di cosine E abbiamo visto anche Ovviamente La caduta del missile Atomico Niente Allora Fall out Non lo lascio Lo terrò sempre in programmazione Perché a me piace A me piace molto E c'è tante cose da fare Più in pianino Visto che l'hanno ridimensionato Cioè messo a posto Con i livelli E quello Mi va benissimo Vi ricordo che se vi è piaciuto Di iscriver Iscrivetevi al canale youtube Pollice in su Nei video Che tanto adesso posterò E Followatevi Così cresciamo E portiamo più giochi Per il resto Vi auguro Un buon appetito Per stasera Un buon proseguimento Ci vediamo stasera Con Far Cry 6 Alle 9 Grazie di tutto E Buona serata E buon appetito A stasera Alle 9 Con Far Cry 6 Ciao ragazzi Grazie a tutti